Una giornata all'insegna del vino e dell'olio di alta qualità, da accompagnare con le prelibatezze tipiche del territorio. Questi gli elementi essenziali venuti fuori il giorno dell'Immacolata in occasione del doppio appuntamento con cantine aperte a Natale e l'ovolio extravergine. Due iniziative dedicate agli amanti del vino e dell'olio che concludono ufficialmente il ricco calendario di eventi organizzato dal Movimento Turismo del Vino per il 2014, realizzate con il sostegno dell'assessorato alle risorse agroalimentari della regione. Dal nord a sud della Puglia cantine e frantoi sono rimasti aperti al pubblico per consentire a tutti, turisti appassionati o semplici curiosi, di gustare itinerari inediti, scoprire le aziende ed incontrare i produttori assaggiando e acquistando i vini e gli oli extravergine di produzione direttamente nei luoghi in cui nascono. Non solo degustazioni ma anche una serie di iniziative che hanno coinvolto i tanti visitatori tra musica, mostre, attività culturali ed una ricca selezione di prodotti tipici. E con l'avvicinarsi del Natale quale occasione migliore per scegliere un gustoso regalo da mettere sotto l'albero oppure sulle tavole imbandite di pranzi e cenoni. Abbiamo principalmente il vino come attore ma in Puglia l'olio è a fianco al vino e quindi prima delle feste di Natale perché non andare a visitare le nostre aziende produttrici di vino e di olio per degustare il prodotto e sceglierlo per le prossime feste, per gli auguri, i regali, per le nostre tavole e quindi vivere l'atmosfera dell'ospitalità del vignaiolo e del costoiano che possono offrire a seconda delle aziende dove si va ma anche degustare e sentire i nuovi prodotti, le novità, conoscerli, familiarizzare e lo scopo del nostro consorzio e quindi buon Natale a tutti coloro che degusteranno vini e oli del movimento turismo del vino e dell'olio di Puglia.